buongiorno a tutti allora iniziamo il tour de force delle schedine bollettine del gigione con il campionato spagnolo poi proseguiremo con quello italiano quello tedesco quelle inglese perché sabato giocano alle ore 16 invece che alle 13 e 30 ci sono le partite alle 16 e concluderemo poi con quello francese che giocano sabato dalle 17 in poi detto questo penso alle 17 perché il io ho dato per scontato che l'orario fosse quello poi magari iniziano alle 19 ma di solito gioca non sabato alle 17 poi domenica quindi andiamo a vedere il campionato spagnolo che cosa ci regala stasera c'è la navessa gli adoli partita tostevole ma ve ne ho già parlato nelle bollettine di ieri che sono andate online oggi quindi partiamo con levante granada alle 14 1x huesca real madrid 2 elce villareal 2 siviglia ghetafe 1 partite di domenica si parte alle 14 con real sociedade calice 1 quindi atleti bilbao valencia 1x partita da aiuto anche perché c'è l'osasugna in mezzo quindi è da aiuto doppio e i bar osasugna e i bar 1 2 betis siviglia barcellona 2 atletico madrid selta vigo 1 schedina alternativa levante granada over 1 e mezzo huesca real madrid over 2 e mezzo elce villareal over 1 e mezzo siviglia ghetafe a mio rischio e pericolo gol è molto molto arrischiata è di pancia questa questa l'ho giocata di pancia se va male mi direte l'hai giocata col bip real so se da calice over 1 e mezzo atleti bilbao valencia gol anche questa mio rischio e pericolo osasugna e bar qua c'è la doppia chance over 1 e mezzo o under 3 e mezzo scegliete voi quella che vi fa più libidine poi magari va bene tutte e due come è successo finisce 2 a 1 va bene sia l'over 1 e mezzo che l'under 3 e mezzo betis siviglia barcellona over 2 e mezzo anche questo un po arrischiata perché il barcellona ultimamente o ne segna un a catervo vince 1 a 0 2 a 0 fa figure e atleti in madrid selta vigo over 1 e mezzo anche perché l'atletico madrid è un'altra squadra che di gol 1 2 non sprechiamoci non stiamo lì a impazzire tanto portiamo a casa i tre punti che siamo primi in classifica più dieci veniamo veniamo alle bollettine del gigione elce villareal 2 siviglia ghetafe 1 real sosse d'arcalice 1 real betis barcellona 2 con 5 euro se ne vincono 30 virgola 0 3 vabbè se vogliamo fare i precisi ma comunque sei volte la posto bollettino numero 2 elce villareal multigol ospite 1 3 siviglia ghetafe multigol casa a mio rischio e dicono multigol casa 2 4 però attenzione perché è proprio bella arrischiata da libidine se la va la gai gamp come se dice a milan real sosse d'arcalice multigol casa 2 4 anche questo un pochettino arrischiata ma non troppo ci può stare e infine realmente smart barcellona barcellona multigol ospite 2 4 anche questa è abbastanza rischiatella quindi se non siete convinti andate di multigol siviglia ghetafe multigol casa 1 3 real sosse d'arcalice multigol casa 1 3 e real betis barcellona multigol ospite 1 3 se non siete convinti se poi volete andare sul sicuro andate di 1 4 però tenete conto che la quota s'abbassa giocando quelle che vi ho consigliato io tra virgolette con 5 euro se ne vincontro 37 virgola 20 quindi elce villareal multigol ospite 1 3 siviglia ghetafe multigol casa 2 4 real sosse d'arcalice multigol casa 2 4 e real betis barcellona multigol ospite 2 4 ve le ho rifatte velocissimamente terza bollettina elce villareal x 2 piove siviglia ghetafe 1 is piove verso se dà cadici 1 is piove real betis barcellona is 2 piove con 5 euro se ne vincono 22,67 siccome quattro volte in mezzo alla posta ma si può fare di più vi ho dato altre due alternative quindi partiamo con la prima elce villareal is 2 piove siviglia ghetafe 1 is piove real sosse d'arcalice 1 is piove real betis barcellona 2 piove in questo caso con 5 euro se ne vincono 28,56 se poi volete fare i brave art come dico di solito terza opzione elce villareal is 2 piove siviglia ghetafe 1 is piove real sosse d'arcalice 1 piove real betis barcellona 2 piove in questo caso con 5 euro se ne vincono 35,85 passiamo alla quarta bollettina e qua ci sono c'è la postilla che vi dirò dopo mi fa libidine ma è una libidine rischiosa ecco una libidine rischiosa elce villareal gol casa siviglia ghetafe gol ospite real sosse d'arcalice gol ospite real betis barcellona gol casa con 5 euro se ne vincono 41,13 però il gol dell'elce e il gol del cadice non sono favoriti quindi è favorito il no gol ospite il no gol casa in elce villareal e il no gol ospite in real sosse d'arcalice la differenza è minimissima quindi siamo proprio 51 a 49 per il no gol ospite o casa a secondo della partita quindi tenetene conto e poi fate come volete perché sapete benissimo gli under poi diventano over e gli over diventano under proseguiamo io ho messo via ma c'è la quinta e la sesta bollettina che naturalmente sono belle incasinate elce villareal gol piover siviglia ghetafe gol piover real sosse d'arcalice gol piover real betis barcellona gol piover con 5 euro se ne vincono 221,34 ma naturalmente elce villareal siviglia ghetafe e real sosse d'arcalice il gol piover non è favorito si parte dall'1 e 25 di differenza di siviglia ghetafe fino ad arrivare allo 0,75 di differenza di real sosse d'arcalice e l'unica partita in cui il gol piover è favorito è real betis barcellona ed è molto molto favorito quindi qui l'1 a 2 l'1 a 3 eccetera o viceversa qualora al betis dovesse fare la partita della vita e batte il barcellona 2 a 1 il gol piover lì è favorito quindi ragazzi tenetene conto magari estrapolate solo real betis barcellona ve la mettete nella vostra bollettina e poi le altre tre partite vi scegliete delle altre opzioni come si suol dire e vi create la bolletta su misura se invece volete rischiare questa due euro non giocate le 52 tanto comunque con due euro ne portate a casa quasi 100 libido detto questo andiamo alla sesta bollettina e qua come al solito dopo devo stopparvi un attimo perché non vi ho fatto l'alternativa comunque è il cebilla real due più gol siviglia ghetafe uno più gol real sociedad calice uno più gol real betis barcellona due più gol con due euro se ne rinco 380 virgola 42 con 5 euro 951 virgola 07 ma siccome l'unica partita in cui il due più gol è favorito che appunto real betis barcellona mentre gli altri l'uno più gol o il due più gol non sono favoriti vi devo fare la bollettina alternativa quindi mi stop un attimo vado a prepararla e poi finiamo il video tenete sempre conto che real betis barcellona al due più gol è favorito quindi tenetene conto per eventuali bollette che magari volete fare potreste scegliervi o uno o l'altro o il gol più over o il due più gol ve lo mettete in bolletta aggiungete altre partite che vi fanno libidine e vi create la bolletta su misura adesso mi stoppo e andiamo a fare la la bolletta alternativa della sesta bene 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 scherina alternativa perché naturalmente essendo quelle tre partite lì proprio ma proprio ma neanche per l'anticam perché c'è una differenza addirittura vicina al 2 tra l'un due più volo l'uno più gol e l'uno più no gol e l'uno più no gol di elce villareal si vede a getta ferrers o sesar cadici quindi mentre invece real betis barcellona come dicevo prima il due più gol favorito libidine poi sapete benissimo nel calcio fanno quel cavolo che gli pare comunque bolletta alternativa elce villareal due più no gol siviglia getta ferrero più no gol real sosedà cadici uno più no gol real betis barcellona due più gol in questo caso con due euro se ne vincono 53,15 vedete quote proprio popolari popolari possibilità alte teoriche e con 5 euro se ne vincono 132,89 naturalmente come vi dico sempre la quinta e la sesta bollettina o vi giocate due euro e li fate come le ho fatte io e magari la vai la gaigam sarà difficile però potrebbe anche uscire è già un successo però due euro perché così almeno non si rischia tanto se no l'opzione alternativa è naturalmente quella di scegliere la partita che fa libidine in questo caso real betis barcellona o gol più over o due più gol la prendete la mettete nella vostra bolletta generica con altre partite con altri pronostici e vi create come vi dico sempre la bollettina su misura questi sono solo le mie bollette sono solo dei consigli poi se le prendo le azzecco eccetera va bene ci mancherebbe ve lo dico lo stesso però a parte le prime quattro che ci stanno che escono anche abbastanza spesso e volentieri le ultime due sono proprio per quelli che amano il rischio dicono no ma io voglio vincere tanto e allora la seconda la quinta e la sesta è proprio per gli scommettitori quelli che gli piace vincere tanto perché comunque basta prenderlo una volta e sei a posto per tutto il mese teoricamente detto questo vi saluto vi ringrazio vado a preparare il campionato italiano ciao ciao